One and live. Ti ho chiesto se hai bisogno di acqua e ho appena finito di fare un video sul concetto del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto e mi sono accorto che il mio bicchiere era interamente vuoto, no? È oggettivamente vuoto, sì sì, non c'è filosofia in mezzo. Quindi sono interessato ecco al fatto che anche tu entri in questo mondo degli NFT che in Italia è molto non capito, ostacolato, insomma non è facile. Direi che il tuo è uno dei primissimi progetti proprio a tema NFT musica in generale, ecco. Per cui insomma complimenti per il coraggio intanto. Beh ti ringrazio, intanto grazie per la chiacchiera di oggi, grazie per il tuo spazio. Ma guarda, nasce tutto dalla community, nel senso che ho notato che c'è molta confusione nel mercato musicale oggi, no? Nel senso che escono tanti prodotti, è tanto questione di mode, c'è molta dispersione, no? Da quando le piattaforme di streaming sono diventate un po' la nuova istituzione, c'è tanta omologazione tra gli artisti, voglio dire, cioè sono, siamo tutti delle icone rettangolari messe uno vicino all'altro. Cioè tu hai David Bowie, poi c'è Mondomarcio, poi c'è un altro artista e siamo tutti quanti un pochino omologati, no? Quindi c'è tanta inflazione nel mercato, a prescindere da quello che è il contenuto. E questo secondo me, per l'utente finale, crea molta confusione. Cioè il concetto è un po' come quando devi scegliere che film vedere su Netflix, no? Che passi due ore a scegliere il film, poi hai finito di mangiare e non hai visto niente. Cioè troppe opzioni è un po' come avere nessuna opzione, quello è un po' il senso. E quindi l'idea degli NFT, l'idea di provare appunto questa incursione nel mondo NFT, è per consolidare la mia community. Nel senso che al di là del prodotto vero e proprio NFT, per me è un po' come il biglietto magico della fabbrica di cioccolato di Willy Wonka, no? Nel senso che tu prendendo l'NFT hai un contatto diretto con me, che è una cosa che se io mi metto dall'altra parte, se ci fosse uno dei miei cantanti preferiti sarebbe una figata, ecco. Perché ecco con l'NFT diamo accesso, che ne so, a una telefonata, piuttosto che hai l'accesso al backstage dei prossimi concerti, piuttosto che c'è un accesso al canale Discord dove chatto direttamente io. Quindi nasce con l'idea di unire e di avvicinare le persone in un momento dove, a parere mio, c'è molta confusione, molta dispersione, c'è un po' di tutto, tutti fanno tutti, tutti fanno tutto. E invece l'NFT vuole essere il biglietto che ti permette di avvicinarti di più, a me in questo caso, ecco. Probabilmente l'incomprensione in questo momento, in paesi che magari non hanno anche una cultura digitale abbastanza sviluppata, però in generale, probabilmente nasce dal stato che ad oggi gli NFT sono visti come uno strumento speculativo legato al mondo dell'arte, dove uno dice, ah ok, compro l'immaginetta e poi la flippo e faccio i soldi. E quindi la gente non riesce a capire che invece gli NFT si sono già spostati su tutta la parte di utilità, cosiddetto utility NFT. Ti dicevo prima, ho intervistato, prima di collegarmi con te, Patrick Muratoglu, che è uno degli allenatori di tennis più famoso al mondo, allenatore di Serena Williams, e lui lancia adesso il suo NFT, e chiaramente non è un NFT artistico, lui fa l'allenatore di tennis, però grazie a questo NFT tu hai un pass per accedere a quello che è la sua community, le sue iniziative, le sue conferenze, puoi mandargli il video e lui ti fa l'analisi del dritto rovescio, insomma è uno strumento, ecco, alla fine dei conti è un formato e dici uso il file PDF per fare che cosa, e qua la stessa cosa, uso l'NFT per fare, creare un rapporto con una community, che è interessante, ti segnalo vorrei la tua opinione poi, scusa, quando lo lanci l'NFT? Dunque, il primo drop è uscito, mi sembra, circa un mese fa, nel senso che un altro dei motivi per cui ho fatto questa incursione nel mondo crypto NFT è perché avevo in programma di rimasterizzare i miei due primi album, quindi quando rimasterizzi un album, detto molto molto semplice, lo fai suonare meglio, perché appunto il mio primo album l'ho fatto 18 anni fa, ho iniziato molto molto giovane, o 16 anni, figurati, quindi la tecnologia con la quale mixavi gli album e suonava la roba era diversa rispetto ad oggi, quindi abbiamo fatto questo rimaster del mio... Un Walkman, non so, l'hai fatto così, insomma? Quello è quasi, quasi, era poco dopo il Sony Walkman, cioè comunque c'era ancora la cassettina, c'era ancora la cassettina, assolutamente, quindi ecco abbiamo rimasterizzato i due primi album, per me, come per molti artisti, i primi lavori sono quelli un po' più cult, no? E quindi l'idea di introdurre l'NFT in questo lavoro del rimaster dei miei primi album era quello di ridigitalizzare un prodotto cult per quella che è la mia storia, e quindi renderlo disponibile a un pubblico che vive più nel mondo, giustamente, del 2022 rispetto al mondo di quando sono usciti questi album qua, perché i due NFT, questo drop qua, sono le due cover dei due album, quindi la nuova cover del... Ho fatto rifare da un grafico apposta che fa solo un NFT, le cover dei due album, e quindi la cover dei due album è l'NFT stesso, e quindi è come dire traslare un album cult di 18 anni fa in una lingua che si parla nel 2022, che è la lingua, se vuoi, della crypto, la lingua del digital. Chiaro. Stavo pensando, immaginati se 18 anni fa fossero esistiti gli NFT e io avessi potuto prendere NFT. Poi uno, anche qua, uno pensa sempre che gli NFT li devi solo vendere, ma uno può anche regalare. Io non so, adesso regalo 100 NFT, dove se c'è l'NFT fai una partita ping pong contro di me, non lo so, capito? Lo regalo, l'NFT semplicemente è un modo semplice per poter gestire delle esperienze. Però immaginati se 18 anni fa tu avessi, non so, regalato 1000 NFT ai tuoi primi 1000 supporter. Facciamo finta che non c'era nessuna economia legata a quello, ma solo dire, io sono uno di quei 1000. E poi avessi detto, guarda, una volta all'anno ci si trova soltanto con quei supporter originali, e tu poi a distanza di 18 anni ti presenti all'evento annuale e dici, oh, io sono uno di quelli, no? È chiaro che c'è un valore, che è anche un valore di appartenenza, secondo me, che è importante, che dici, wow, caspita. Assolutamente, sì. Poi ecco, l'idea è quella di fare un percorso, cioè di fare più drop di NFT e per accedere al secondo drop devi avere il primo. Quindi diciamo che ritorna tutto un po' a un concetto di, per usare un termine che non amo perché è molto commerciale, però prende l'idea di fidelizzazione della community, no? Che non è tanto una questione di profiling, è proprio una questione di sapere a chi parlo, io come creatore, come entertainer, e anche per chi sta dall'altra parte, avere un contatto diretto con l'artista che preferisci, ecco. Quindi sì, l'idea è quella di fare un percorso insieme che rilega in più drop e ogni volta che acquisti un NFT hai dei vantaggi in più, come dire, la tua esperienza viene aumentata in qualche modo, perché una volta c'è il backstage, una volta c'è la telefonata. Io lo trovo molto, molto, molto stimolante, come, cioè, trovo che semplifichi molto tanta burocrazia che c'è intorno alla commercializzazione della creatività, semplifica molto, perché se oggi comunque vuoi far uscire un album, vuoi far uscire della creatività, devi passare attraverso certe griglie, no? Di burocrazia. Anch'io che sono un artista indipendente, collaboro con la Sony come distribuzione, che è una multinazionale, però io sono firmato la mia etichetta indipendente, no? Anche per un artista indipendente, comunque devi passare attraverso certe griglie per buttare fuori la tua creatività. E l'NFT a me, anche se adesso magari è un po' presto per l'Italia, sicuramente, però concettualmente la trovo una tecnologia che semplifica tutti questi passaggi, semplifica incredibilmente, rende tutto molto più accessibile, molto tutto più semplice. Poi la realtà dei fatti è che io credo pochi italiani, pochissimi italiani, oggi hanno un wallet, pochissimi italiani, se gli dici blockchain, sanno che cosa significa, eccetera, eccetera. Però l'idea NFT, secondo me, è molto molto forte, è molto molto utile. Anche perché hai un rapporto diretto con la tua community, mentre oggi invece, tu come artista, io come, diciamo, media o imprenditore, siamo tutti intermediati da una piattaforma. Precisamente. Se tu vuoi parlare con i tuoi fan, sei intermediato da YouTube, da Spotify e via, così non sei in controllo rispetto alla relazione. Invece, l'NFT è una sorta di cordono umbilicale, secondo me, che tu stabilisci e dici, ok, direttamente io posso venire a chiacchierare con i miei fan e avere una relazione diretta. Posso fare un airdrop direttamente una volta col tuo wallet, ti mando un nuovo pezzo. Non lo so, così. Ho visto Boy George, ha detto, ha fatto, non so, 70 canzoni durante la pandemia. Non so, ragazzi, continuava a fare canzoni. E dici, ok, ti mando un tot di brani nuovi, così, perché abbiamo questo rapporto. Quindi non devo passare da, diciamo, dalle grandi piattaforme. E questo, secondo me, è interessante. E dall'altro lato, ecco, oggi magari lo Spotify di turno, che peraltro è una notizia di 20 minuti fa introdurrà gli NFT, quindi ovviamente, no, cioè, oppure Zuckerberg ha detto Instagram introdurrà gli NFT, cioè, ma questo è evidente, no, è un formato che arriverà un po' dappertutto, però tuttora il modello di business di una Spotify per un musicista non è un buon modello di business, oggettivamente, no? È buono per loro, ma non per il singolo musicista. Invece gli NFT stabiliscono una reazione diversa, che a quel punto, secondo me, è più sostenibile anche per gli artisti. Ecco, almeno questa è la mia... Se io facessi... Assolutamente, guarda, tutte le grandi piattaforme, guarda, negli anni 60, negli anni 50, negli anni 60, c'era la radio, ed è rimasta comunque nelle decadi anche a seguire. Poi dopo la radio è arrivata MTV, no? Poi dopo MTV sono arrivate le piattaforme di streaming, Spotify, Apple, eccetera. Però, il principio è sempre lo stesso, cioè comunque c'erano queste grandi appunto piattaforme, radio, poi la TV con i video, poi la piattaforma di streaming. Però se tu volevi far arrivare il tuo prodotto alla gente, comunque in qualche modo attraverso loro dovevi passare. Dovevi comunque o ingraziarti, oppure sperare che gli piacesse a prescindere. Perché non è neanche tanto questione di amicizia o di raccomandazioni, è proprio questione che l'imbuto è grande così e tutto il mondo ci vuole passare attraverso. Ok? Quindi queste grandi piattaforme per forza di cose dovevano filtrare chi poteva passare in radio, in tv o su Spotify oppure no. Invece l'NFT ti permette di far accedere le persone direttamente al tuo show, di non dover passare attraverso nessuna piattaforma. Per quello lo trovo molto liberatorio e mette l'artista in controllo della propria proprietà intellettuale. Ti mette in controllo vero, reale delle tue creazioni che vuol dire tanto, vuol dire veramente tanto. Penso anche che il rapporto con la community mentre il mio cane intanto sta impazzendo probabilmente c'è qualcuno che vuole vendergli un NFT alla porta andando fuori di testa il rapporto con la community secondo me è interessante anche a livello creativo perché quello che mi sto rendendo conto io con la mia community NFT facendo un mestiere non artistico per niente però mi rendo conto che se tu hai delle persone che veramente sono coinvolte nel progetto e sono interessate al fatto che il progetto funzioni perché ne hanno un vantaggio da tutti i punti di vista se il progetto funziona a quel punto ognuno si mette a disposizione dice cosa posso fare per dare una mano e anche dal punto di vista come dire creativo è interessante perché hai un sacco di gente che dà delle idee degli spunti è molto più come dire ti senti meno solo ecco la meta così che non è male come sensazione mentre invece se hai dei fan come dire distaccati sì che fai il firmacopie fai la stretta di mano però poi non c'è nessun tipo di reale complicità per quello che sono le attività da fare quindi anche questo può essere interessante magari no infatti è quello che intendo io per fidelizzazione infatti non intendo il termine dal punto di vista di marketing intendo il termine dal punto di vista di conversazione cioè avvicina il creatore al consumatore e questo rende la conversazione come hai detto tu diretta cioè il feedback che ti do io è diretto il feedback che tu mi dai è diretto e quindi anche per me è utile perché posso veramente sapere se una canzone piace più di un'altra che ne sai magari metto che ne so potrei anche impazzire mettere dei provini su un NFT che puoi ascoltare tramite un NFT e chi lo compra mi dice quale gli piace quale no quindi sì sì diciamo che rende la conversazione tra creatore e ascoltatore assolutamente diretta che vuol dire tantissimo in un mondo dove è pieno di confusione opzioni diverse piattaforme varie quindi è tanta roba che reazione hai visto tra diciamo i colleghi nel mondo della musica rispetto a progetti in effetti perché a me sorprende il fatto che in Italia ancora ci siano così pochi progetti mi aspettavo che molti sarebbero già partiti a questo punto soprattutto nel mondo musicale ma allora sai che in Italia diciamo che siamo sempre un pochino lentini a sposare nuove idee nuove tecnologie ci mettiamo sempre un pochino di più avevo visto che un paio di altri artisti hanno fatto degli NFT anche se devo dire adesso sembra che me la meno però nel senso il lavoro come dire l'idea degli NFT è stata mia poi il lavoro nello specifico proprio materialmente chi ha mintato eccetera eccetera questo team di ragazzi che si chiama Universe ai quali vorrei appunto fare i complimenti perché hanno lavorato molto molto bene quindi non è tutto merito mio io ho avuto l'idea poi chi ha tecnicamente realizzato io sono proprio esattamente l'opposto di uno smanettone conosco due cose da fare al computer che sono tutte legate alla musica e stop quindi loro hanno fatto tutto il lavoro sporco però per dire comunque sono andati bene cioè sono andati tra i migliori questi NFT che abbiamo realizzato quindi sono molto contento del risultato non è ancora popolare come pratica però credo che nei prossimi mesi senza aspettare troppo lo diventerà ecco quindi mi aspetto che molti sposeranno la causa però al momento siamo un po' come i primi indiani che vanno sulla collina scusami come i primi cowboy che vanno sulla collina e si prendono un po' di frecce degli indiani e tornano dagli altri dicono raga ce ne sono una cifra dall'altra parte siamo un po' i primi precursori ecco in Italia il mondo delle radio invece che hai citato prima che peso hanno le radio ancora rispetto al successo in Italia ma stesse cose in Italia dunque prima la radio era l'unico mezzo per arrivare adesso un artista può fare la scelta e dire me ne frego la mia musica la trovi su internet che passo che non passo in radio non mi interessa diciamo che se prima la radio era l'unico veicolo attraverso il quale arrivavi adesso è un po' il bollino blu tipo il bollino blu cichita cioè se tu passi in radio come dire anche la mamma anche la mamma anche la nonna che sta a casa anche il papà dice ah si lo conosco l'ho sentito in radio è un po' come non lo so un po' come canale 5 Italia 1 capito cioè se fai quelle cose lì sei nazional popolare se sei nazional popolare c'hai un pochino il bollino blu però ci sono artisti tipo non lo so Salmo che fa San Siro e in radio ci passa poco o niente al tempo stesso tanti artisti senza la radio non esistono diciamo che dipende molto dal tuo messaggio dipende molto da quello che dici io non ho una grande storia a radio a parte i singoli che sono andati di più però non sono un artista che passa tanto in radio un po' se vuoi per i contenuti per una serie di motivi però comunque ho sempre lavorato molto bene tanti club sold out quindi diciamo che adesso non è indispensabile avere la radio per poter avere una fan base ricca e lavorare bene è un po' il bollino blu secondo me la radio ora e dopo diciott'anni ritrovarti quando sei lì su un pezzo non pensi che palle però sta musica magari non so ma vorrei giocare a squash dovrei poi basta certo ma allora se vuoi la verità vera 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 ci ho pensato spesso nel senso che prima o poi mi sarei anche un pochino rotto le scatole perché comunque sì sono diciott'anni dall'uscita del disco però sono venti e passa perché ho iniziato che ero teenager proprio minorenne eccetera quindi sono vent'anni pieni e quindi ci ho pensato molto cavolo ma arriverà il giorno che in realtà ogni volta è sempre la conferma che è proprio un'esigenza cioè io anche se poi se certe canzoni che scrivo poi non escono comunque scriverle mi accorgo che mi ha fatto bene per una serie di motivi è un po' tipo terapia personale è un po' tipo sfogo un po' proprio mi fa sentire bene cioè per esempio in questi due anni di pandemia la musica e te lo dico non metaforicamente te lo dico proprio oggettivamente la musica mi ha salvato ancora una volta in questi due anni di pandemia perché comunque la possibilità di scrivere di mettere di trasformare in positivo dei pensieri che comunque non sono stati due anni facili per nessuno la possibilità di trasformare questi due anni difficili in opere creative quindi che per definizione è qualcosa di positivo perché se fai un quadro una canzone se hai un'idea comunque è positivo perché la creatività nasce dall'amore no? è tutta energia positiva quindi è qualcosa che mi fa molto bene come dire ho varie diramazioni di quello che è la mia attività quotidiana quindi che ne so sei business piuttosto che incursioni su altre attività perché comunque mi piace investire creare a livello appunto creativo di marketing così però la musica rimane veramente un'esigenza prima ancora di un lavoro prima ancora di un qualsiasi cosa legato al commerciale rimane proprio qualcosa che amo fare e che mi fa stare bene prima di tutto sì la cosa poi più importante anche perché se no uno nel tempo non ha longevità no? no ma non è longevità e poi non sarei stato in grado di andare avanti per vent'anni cioè non sarebbe possibile ecco se tu dovessi dire che cosa è cambiato maggiormente in questo arco temporale a parte le piattaforme insomma che ovviamente non esisteva lo Spotify di turno prima o i social non esistevano e quindi era diverso quello ma è cambiato davvero tanto sono cambiate tante tante cose sto cercando di dirti le cose positive perché se ti dico le cose che sono cambiate in peggio sembra che sono legato io non sono per niente uno legato al concetto di guardandomi il bicchiere mezzo vuoto guarda che è pieno oggi a marzo 2022 abbiamo bisogno credo di parlare a nome anche tuo di tutti abbiamo bisogno solo di bicchieri pieni o quasi quindi vorrei parlare di robe abbiamo già abbastanza mezzi vuoti dappertutto sì sì pensando se tu dovessi partire oggi rispetto a quando sei partito vent'anni fa che cosa cambieresti se cambieresti qualcosa insomma ma allora io penso che per un ragazzo che inizia oggi una cosa molto molto bella e che comunque non hai bisogno come dire è meno elitario l'accesso alla musica quando ho iniziato io dovevi veramente farti il come dire dovevi non so se si possono dire le parolacce nel tuo programma puoi dire quello che vuoi ah ok ok quando ho iniziato io dovevi farti il culo per forza no perché se no non c'erano gli strumenti cioè banalmente lo studio si pagava cioè per andare in studio dovevi pagare lo studio a 16 anni comunque non è che tutti quanti hanno i soldi per pagarsi lo studio quindi dovevi sbatterti per poter registrare delle canzoni perché se no non potevi farlo punto oggi invece con un computer puoi oggettivamente fare un album e puoi tecnicamente metterlo a disposizione del mondo che lo possa sentire e questa la trova una cosa meravigliosa l'altro flip della moneta è che avendo questo accesso avendo 8 miliardi di persone questo accesso a una piattaforma mondiale c'è una grande confusione cioè è stato dato un microfono in mano a 8 miliardi di persone e tutti lo usano contemporaneamente quindi questa confusione qua che c'è oggi quando ho iniziato 20 anni fa non c'era quindi ti facevi più il mazzo però se riuscivi a salire un pochino era più solida la tua posizione perché comunque avevi dovuto fare quei gradini lì adesso quei gradini lì come dire ci sono le scale mobili adesso capito ci sono le scale mobili e quindi tutti salgono più in fretta e durano anche di meno diciamo che quello che mi piace molto di oggi è la condivisione come dire il lato positivo di internet e della tecnologia è qualcosa che mi è molto utile cioè banalmente delle applicazioni che ci sono oggi tipo un'applicazione che uso spesso è Who Sampled ok che è un'applicazione che ti fa questa è un po' tecnica come roba però comunque è un programma che ti permette di risalire al sample utilizzato in una canzone ok no piuttosto che c'è un sito che si chiama Cordify che ti fa vedere gli accordi che ci sono una canzone quindi se vuoi puoi prendere ispirazione ad altri pezzi è il reverse engineering di quello che è la canzone in sostanza bravissimo esatto queste cose qua quando ho iniziato non c'erano quindi dovevi immaginarti tutto certe cose non le potevi fare quindi adesso hai molte più risorse per fare delle figate in musica e questo è molto molto bello diciamo che oggi chi inizia oggi deve sapere cioè deve trovare il modo di orientarsi in tutta questa confusione e inflazione di creatività che c'è perché sono tutti dei creatori oggi cioè oggi uno fa un disegno e dice sono un grafico sono un artista no no però è un po' così da ignorante musicale quale io sono se io sento della musica se sento musica rap o musica in generale a dir la verità ma questo vale anche se se penso alle serie televisive e ai film che vedo su Netflix la maggior parte sono tutti uguali almeno a me suona tutto uguale nell'orecchio e visivamente il film è sempre uguale è sempre la stessa storia è fatto uguale è tutto come dire pacchettizzato sai che più o meno vendicchia poi il prodotto lì va bene bene ma non benissimo no via sono una media e poi ogni tanto vedi la serie che dici wow non so capito la serie televisiva super fantastica o il pezzo che dici mamma mia che figata però è veramente un'eccezione ora magari è un discorso da vecchio il mio ma la sensazione invece rispetto alla musica precedente era che c'era molta più unicità ognuno aveva il suo stile insomma aveva i guns che facevano una roba e poi ognuno aveva un po' la sua unicità mi domandavo se il fatto che ci sia stata una democratizzazione degli strumenti utilizzabili e una connessione totale dove tu vedi esattamente quello che vedo io sui social a livello musicale abbia creato effettivamente una maggiore uniformità e più o meno tutti fanno le stesse cose però dall'altro lato tutti abbiamo anche più strumenti e potenzialmente ognuno può essere ancora più originale e creativo ecco non so come sia la situazione eh guarda sto cercando di non essere troppo drastico però cioè sono d'accordo con tutto quello che hai detto cioè suona tutto quanto uguale suona tutto quanto uguale e non lo so probabilmente ci sono vari motivi non saprei dire qual è il motivo un po' un circolo a volte virtuoso a volte vizioso nel senso che con il modificarsi della tecnologia che è diventata molto più veloce rispetto a quanto era soltanto 10 15 20 anni fa il livello di attenzione dell'ascoltatore è calato incredibilmente quindi cioè se prima cioè per esempio mia mamma mi raccontava che lei andava a comprare il vinile ok negli anni 70 ci avevi quei soldi lì ti compravi quel vinile addirittura andavi a casa dell'amico ad ascoltarti quel vinile perché magari a casa tua non c'era il lettore vinile e stavi tipo mezzo pomeriggio lei mi diceva che i dischi di Kat Stevens o dei Pink Floyd lei li conosceva a memoria ogni parola ogni canzone ogni nota perché quelli c'erano cioè cosa è uscito questo mese questo mese è uscito il disco di Kat Stevens punto uno quello ti sentivi no e te lo risentivi e te lo risentivi e te lo risentivi quando escono 50.000 dischi al mese la gente ha altro da fare oltre che sentire la musica giustamente e quindi il livello di attenzione adesso le statistiche più o meno approssimativamente sono una cosa tipo 3 secondi 4 secondi per canzone no che se uno dopo i primi 5 secondi non è acchiappato schippa ok e e quindi gira tutto un quanto un pochino in quest'ottica qua al fatto di acchiappare la gente di acchiappare l'attenzione no di tenere la gente incollata alla tua canzone e quindi come lo fai questa cosa qua lo fai continuando a dare prodotti lo fai continuando a dare musica e lo fai curando l'estetica anche di più se hai notato adesso conta quasi molto di più l'estetica di un cantante belli patinati belli curati esatto esatto la copertina l'immagine deve essere tutto un po' provocatorio tutto quanto un po' sessualmente fluido cioè deve essere tutto quanto un po' una copertina di un certo tipo e la musica arriva dopo ma perché? perché l'immagine è istantanea cioè tu vedi una foto di un artista metti like ci metti 0,01 secondo a vedere una foto e mettere like per ascoltare una canzone devi ascoltare una canzone ti servono tre minuti di tempo della tua giornata quindi l'immagine adesso arriva prima l'immagine adesso è più del 50% è forse il 70% non lo so se vogliamo ipotizzare la percentuale e poi arriva la musica e quindi sì c'è tanta omologazione c'è tanta copertina più che contenuti però ecco per ritornare al bicchiere mezzo pieno i prodotti gli album gli artisti che dicono qualcosa che hanno qualcosa da dire rimangono nel tempo comunque nonostante questo appiattimento generale della creatività cioè non so come dire Martin Scorsese è ancora il regista numero uno al mondo Tarantino cioè capisci anche se ci sono 40.000 film su Netflix e lo stesso vale per la musica comunque la qualità paga ecco ancora che cosa guardi tu per capire se un artista magari che non hai mai sentito dici wow questo spacca oppure no perché io non saprei da dove partire mentre invece se mi dici guarda dei video di giocatori di ping pong io ti dico esattamente guardi la tecnica certo guarda questo qua sì no cioè così perché se hai un po' di competenza chiaramente hai un occhio diverso tu che cosa cosa ascolti o cosa noti su cosa ti concentri per ma un po' è lo stesso principio di quando compri oppure vai a vedere una mostra no di opere d'arte quadri sculture eccetera l'emozione cioè quanto mi emoziona qualcosa che può essere il modo di cantare o di rappare che può essere la produzione musicale però se mi fa provare qualcosa qualsiasi tipo di emozione che sia preso bene oppure malinconia rabbia incazzatura cioè comunque se mi fa provare qualcosa se mi muove qualcosa dentro anche di piccolino allora sento che c'è qualcosa di speciale in quello che sto ascoltando deve farmi provare qualcosa ed è un po' quello che cerco di mettere io nella mia musica cioè più che belle canzoni cerco di fare sì belle canzoni però che che arrivi cioè che ti tocchino in qualche modo no anche perché sai lo stile musicale nel tempo è di moda poi passa di moda eccetera l'emozione rimane cioè quello che ti fa provare una canzone è per sempre nel senso non ha tempo è timeless il feeling che ti trasmette una traccia chiaro come collaborazioni invece in questo questa evoluzione di questi anni secondo te è cambiato qualche cosa oppure più o meno è sempre stessa perché dall'esterno la mia sensazione è che si è più connessi è più facile potenzialmente cioè è più facile produrre in remoto con più realtà persone e quindi mi immagino che di default uno dice ok al posto di fare tutto il lavoro io ho un team distribuito delle collab oppure ognuno lavora a modo suo e quindi in realtà è solo una sensazione questa personalmente per come sono io il fattore umano è ancora fondamentale ti dico ho mixato il mio ultimo album a febbraio dell'anno scorso e l'ho dovuto mixare per forza di cose via Skype con il mio sound engineer e comunque è un'esperienza che toglie perché comunque ho bisogno di stare in studio con te guardarti negli occhi cioè il fattore umano è ancora troppo importante non sono per niente un fan dello smart working non sono per niente a favore del cioè trovo che sia utile per esempio in certi momenti o anche banalmente cioè per l'intervista che sto facendo con te magari non avevamo possibilità di vederci di persona ok in certi casi ti può fare di più però in certe altre situazioni in realtà no il fattore umano per me è molto importante sì quindi cerco sempre di vedermi con le persone specialmente se stai creando specialmente se stai creando ho bisogno di averti in studio di provare quello che tu stai provando c'è questa espressione in inglese di essere in the zone no che è quando togli un po' tutta la personalità tutto l'ego lo lasci da parte e c'è questa bellissima espressione che vale anche per gli attori e vale un po' per i creativi in generale che dobbiamo essere un po' come le canne di bambù no tutti svuoti e lasci passare l'aria attraverso di te e quello che esce è musica no questo non lo puoi fare su skype questo non lo puoi fare su zoom cioè devi essere lì e devi essere in the zone con le altre persone e lasciare che l'energia sia nella stanza quella cosa lì per me è molto molto importante ancora mia moglie ha piantato in giardino dei bambù e non avevo mai visto una pianta crescere così veloce in vita mia quindi mi sono messo a studiare i bambù e ho scoperto che in sostanza quando poi dici basta questo bambù ha rotto i coglioni perché continua a creare questo va va non lo fermi mai non lo puoi più togliere cioè il bambù prende non so i 20 chilometri lui parte sottoterra e va e quando passa dappertutto passa negli edifici i bambù sono una pianta incredibile quindi so scusa l'ho visto l'altro giorno ho detto certo certo è meraviglioso è una pianta meravigliosa ma e rispetto c'è le collaborazioni scusa queste deviazioni vedi quando sono sposato e queste sono le discussioni rispetto alle collaborazioni capisco perfettamente non ho l'anello ma capisco assolutamente anche con la mia allora io con la mia compagna sono io l'addetto al pollice verde quindi faccio del mio meglio non ho ancora del bambù però sto lavorando un po' su quello che abbiamo in casa io sono l'opposto io sono il pollice nero ma insomma sono sposto le piante come al massimo posso fare quello rispetto alla collaborazione invece con altri artisti rapper ogni volta sembrano sempre tutti incazzati uno contro l'altro non riesco mai a capire se sia un fatto di marketing o effettivamente richiede il cliché del rapper dice no io per essere devo effettivamente odiare il mondo e insultare non lo so o invece c'è poi una reale collaborazione ad esempio in Italia ma se me dipende sì no dico in Italia ci sono alcuni nomi storici come dire non è che sono centomila gli artisti cioè vi conoscete tutti insomma sì 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 beh l'ambiente comunque ci si conosce assolutamente io penso che dipenda un po' dall'età nel senso che comunque il rap è una musica giovane per definizione e quindi sai quando hai 18 20 anni inizi a vedere che la gente un po' ti segue l'ego comunque si gonfia forte perché comunque un po' c'è gli ormoni che spingono ancora tanto un po' non hai esperienza pratica nella vita quindi non hai preso così tanti schiaffi per tenere la testa giù quando hai bisogno di tenerla giù la tieni sempre su quindi c'è comunque l'età un po' fa fa tantissimo che rispetto agli altri generi il rap forse è l'unico o uno dei pochissimi generi musicali dove non devi aver studiato niente cioè è tutto a orecchio non so come dire un chitarrista comunque almeno un maestro nella sua vita cioè sì sono i chitarristi autodidatti però non so come dire in tutti gli altri generi un po' devi studiare no? e per studiare hai cioè devi avere un po' di disciplina il rapper è autodidatta cioè comunque il rapper arriviamo tutti quanti dalla strada nel senso cioè ce lo siamo inventati un po' questo lavoro qua no? e poi chi è rimasto nel tempo cioè sono quelli che hanno un pochino capito come farlo diventare un lavoro uno stile di vita eccetera quindi un po' l'età un po' il genere che è tutto di autodidatti e poi un genere molto competitivo perché è un genere dove tutti quanti vogliono essere il numero uno no? quindi se metti queste cose qua insieme è facile che si cozzi cioè fa un pochino parte del genere è molto competitivo per natura poi se stai ad ascoltare tutti quelli che dicono c'ho le pistole c'ho la di qua c'ho i soldi eccetera tu considera che il 95% di questi è falso in particolare questo presupposto qua lo dicono perché suona bene in particolare questo presupposto qua è uno dei cliché del genere è un po' come per il rock non so come dire certo fa strano se il rocker non fa la solo fa strano se il rapper non ha un po' di ego in più rispetto agli altri perché anche perché è musica che ti vuole caricare no? cioè io dico spesso devi vederlo un po' come i fumetti no? quando leggi Batman ti identifichi in Batman ed è figo perché comunque a prescindere lui ce la fa prende a calcio in culo tutti quanti eccetera il rapper è un po' come quella roba lì ti dà la carica no? cioè fa quello che tu non fai ma perché nessuno si sveglia la mattina e va in giro e dice c'ho i soldi c'ho questo c'ho quest'altro nessuno sano di mente lo fa però il rapper lo fa perché comunque è entertainment cioè magari ce li ha magari no però lo dice su una canzone per darti la carica necessaria no? cioè perché ti puoi identificare con lui a sentirti un figo magari una giornata storta metti su Tupac metti su Biggie e ti senti un figo anche tu e ti dà quella carica necessaria lì vedi c'è chi leggeva Batman e chi si identificava come me in Paperinic questa è la differenza quello lo leggevo anch'io Paperinic lo leggevo anch'io Ratman Paperinic assolutamente dovresti fare un pezzo su Paperinic prima o poi e questo è una grande gioia nessuno ha mai fatto un pezzo su Paperinic non riesco a capire perché era un grande supereroe però vabbè è perché tutti vogliono apparire figli Paperinic è più vero Paperinic è vero non so come vero è il supereroe un po' spiegato capito però alla fine Cremonini Cremonini aveva fatto una bella canzone che aveva un titolo secondo me meraviglioso che si chiamava Nessuno vuole essere Robin ah ok ok ed è molto vero Nessuno vuole essere Robin certo chi vuole essere diciamo l'accompagnatore non vuole sempre essere esatto esatto e per il rap vale moltissimo questa cosa qua lo capisci un pochino con gli anni ecco come musica mi domandavo scusa io mentre parli mi vengono curiosità no no bello bello è una bellissima però sono una curiosità che avevo era come approcci un un nuovo pezzo dei nuovi pezzi perché prima c'era quest'idea di album era consolidata c'era l'album aveva un ton di canzoni dentro l'album aveva la sua copertina avevi un percorso anche che volevi farmi fare con tutti i vari pezzi e ok oggi invece boh sembra tutto ecco un po' fluido liquido che non si capisce più rilasci un pezzo solo sono 70 sono 25 ma questo è un sotto album dell'album non so io faccio fatica a capirci qualcosa quindi mi domandavo tu dal punto di vista produttivo e creativo come lo affrontavi quando dicesco con qualcosa di nuovo ma da dove parti dunque dipende un po' anche qua dalla tipologia di artista nel senso che ci sono artisti a prescindere dall'età di solito quelli un pochino più giovani che alcuni lavorano molto per singolo nel senso che poi dipende anche da cosa hai da dire dipende un po' da che tipo di artista sei cioè da cosa dici nelle canzoni cioè ci sono artisti tipo me che sono più da album perché comunque cerco di portarti da qualche parte con le mie canzoni cerco di raccontarti una storia che non deve essere per forza un concept però dico delle cose nelle mie canzoni ci sono artisti che fanno musica semplicemente da ballare dove allora il singolo ha senso che ne so Calvin Harris per esempio fai musica dance la gente balla io non ho bisogno di un disco di Calvin Harris cioè ha la terza canzone forse anche però il singolo che ne so con Rihanna fa un miliardo di stream perché se lo ballano Ibiza tutta l'estate eccetera quindi dipende un po' dalla tipologia di artista io tendo a preferire l'album perché l'album è un po' come un libro per me ti dà la possibilità di mostrare più sfaccettature dell'essere umano nel senso che noi come esseri umani non siamo in bianco e nero abbiamo tante sfumature un giorno sei così un giorno sei cosà quindi un album ti permette di mostrarti a pieno mostrarti a 360 e di come dire accompagnare l'ascoltatore in un percorso che è completo nel quale si può veramente identificare perché c'è un giorno che ti senti innamorato c'è un giorno che ti senti incazzato col mondo eccetera eccetera da dove parto? di solito parto dalla musica nel senso che io oltre ad essere rapper sono anche producer quindi ecco quella per esempio è una roba che mi fa stare benissimo creare musica poi me la riascolto e se mi trasmettono delle emozioni parto da lì parto da da quello che mi trasmette una base e vedo quanto di mio c'è in quell'emozione che ne so se è una base particolarmente incazzata tiro fuori degli argomenti che mi riportano a quell'emozione e parto da lì quando ho un po' di tracce che per me sono forti che trasmettono sensazioni vere allora inizio a pensare a un concept di album di cosa voglio parlare quindi sì io sono ancora di quell'impostazione lì e ti dico fuori dai denti non sono troppo un fan della iper diversificazione del prodotto musicale cioè nel senso a me piace che se un artista c'è qualcosa da dire che sia un bravo chitarrista o che sia un rapper o che sia chiunque cioè fammi sentire il tuo album me lo metto a casa me lo metto in macchina su Spotify e me lo ascolto fare un milione e mezzo di remix diversi che puoi customizzare eccetera eccetera io personalmente come ascoltatore non come artista personalmente come ascoltatore non sono un fan perché ho le mie band che mi piacciono i miei artisti che mi piacciono e mi tengono compagnia nei momenti della mia giornata che ne so la sera quando torno a casa che sono stanco mi ascolto gli Alabama Shakes e non voglio sentire il remix del DJ polacco che ha fatto la canzone strano voglio sentire gli Alabama Shakes voglio sentire gli Alabama Shakes cioè non so come dire se ti chiedo un panino con la mortazza voglio un panino con la mortazza non voglio il panino vegano con la mortazza se no se voglio mangiare vegano vado a un ristorante vegano però quello sono io oggi si tende a diversificare molto però secondo me è un po' come il discorso che facevamo prima dei 10.000 film su Netflix che poi non ne scegli neanche uno ecco è un po' quella tendenza lì a parere mio e l'asticella diciamo etico-commerciale dove la metti se devi fare un pezzo ti faccio un esempio in questo momento se io voglio fare un video che fa un miliardo di views inizio a fare video sul tema non so Russia-Ucraina quello che non vi hanno veramente detto e martello così come fanno i media tradizionali che sciacallano prendono la notizia del giorno e picchiano dentro su quello per avere views o sui social in continuazione sempre così e nella musica è facile perché tu sai quali sono i temi caldi prendi fai un pezzo un instant hit su quello e boom chiaramente ogni come dire scelta che fai poi hai un prezzo che paghi negli anni rispetto a quanto poi resti rilevante o quante cazzate hai fatto insomma no quindi hai magari un vantaggio commerciale di breve ma nel lungo periodo poi paghi il prezzo anche di qualche autaccredibilità mi domandavo ecco dove dove mettevi tu l'asticella rispetto anche agli argomenti che vuoi trattare come ti muovi ma Johnny Depp ha detto una cosa molto molto interessante molto utile anche lui diceva che quando sceglieva i film ne faceva due per loro e uno per me e loro inteso come Hollywood pubblico eccetera due per loro e uno per me due per loro e uno per me ora io nella mia carriera a volte ho fatto forse la scelta giusta o sbagliata secondo dei casi di farne tipo tre per me e uno per loro tre per me e uno per loro esatto ma perché come ti dicevo prima la musica nasce più da un'esigenza che da una voglia di diventare ricco famoso piuttosto che nasce proprio dal fatto di quanto mi facesse stare bene e di quanto ancora mi fa stare bene creare musica testi eccetera quindi ho fatto tante cose per me e un po' di meno di cose proprio puramente commerciali però ho sempre cercato di infilarcele perché comunque comunque è anche molto vero il discorso e sono assolutamente dell'idea che se vuoi fare musica soltanto per te non la pubblichi neanche comunque alla fine noi creiamo per il pubblico creiamo per intrattenere poi io ci metto la mia vita ci metto tutte cose vere che mi sono successe o che ho visto in prima persona però lo fai per gli altri non lo fai per te cioè comunque la destinazione è il pubblico ecco devi essere bravo secondo me a trovare l'equilibrio tra come dire qualcosa che ti gasa a te per primo che quando hai finito di farlo ti senti forte nel senso che hai fatto una roba che ti gasa è qualcosa che può gasare anche gli altri ecco devi trovare quell'equilibrio lì qualcosa che sia di tendenza in quel momento però che al tempo stesso ti rappresenti ecco è un po' quell'equilibrio lì da rispettare da trovare come bilanciamento se gli artisti interessanti con cui hai collaborato collabori o vorresti collaborare sono sempre curioso rispetto alle alle collaborazioni sia come nascono sia così insomma come come funzionano dunque quando ho iniziato le collaborazioni nascevano proprio perché rimbalzavi sulle persone nel senso che andavi alla gemma andavi nel locale proprio eri in quattro gatti letteralmente e dicevi cavolo anche a te piace l'hip hop sì anche a te piace l'hip hop perché eravamo tipo in trenta nel 2003 era tipo i massoni era tipo la massoneria perché però c'era senza i soldi nel senso c'era la massoneria senza i soldi quindi proprio ti incontravi fisicamente alle serate adesso è tutto un pochino più separato sono tutti un pochino nel loro studio però sono un sacco di artisti che mi piacciono Caffè Latte per esempio è un'artista italiana una cantante indie italiana che mi piace molto molto fresca molto brava Lita anche è un'artista italiana che vive a Los Angeles che mi piace molto poi che ne so di rapper italiani mi piace moltissimo Fabri che è forte lui è uscito con un album nuovo credo una roba del genere sì stanotte è uscito con un album stanotte sì no vabbè cioè sono come dire io sono fan di tutta la scena in realtà hip hop italiana sono un grande supporter ma anche perché l'ho vista andare dal periodo proprio buio del medioevo dove veramente se andavi una serata sembra veramente uno della massoneria a quando proprio ho fatto il botto nel 2006 anche in piccola parte grazie a quello che ho fatto con i miei album e sull'estero invece hai pensato di muoverti col fatto che appunto hai Spotify che comunque connette un po' il pianeta certo c'è più chance ecco rispetto a un tempo ma sai cosa la lingua italiana ti impone di parlare comunque al pubblico italiano nel senso che l'inglese ti permette di parlare al mondo l'italiano ti permette di parlare al mondo italiano quindi anche quando ho fatto il tour europeo abbiamo toccato Londra Dublino Barcellona Amsterdam e comunque vedevo nel pubblico che il 90% erano italiani ecco e mi fa anche molto molto piacere quindi dal punto di vista live se rappi in italiano tendi a suonare per gli italiani che comunque è una cosa che mi piace mi piacerebbe appunto in futuro collaborare ancora di più con artisti europei adesso abbiamo in cantiere delle collaborazioni con degli artisti francesi degli artisti tedeschi quindi l'Europa come mercato mi piace molto ecco anche perché comunque noi europei siamo tutti abbastanza simili su certe cose cioè sia nelle città che proprio con i modi di fare quindi l'Europa mi attira molto il mercato degli Stati Uniti è già un'altra questione perché cioè lì devi rappare in inglese ecco è proprio un altro paio di maniche però sì sì l'idea comunque sai tra i sogni nel cassetto di ogni artista penso me compreso è quello di parlare al mondo no? quindi uno vorrebbe suonare ovunque parlare a tutti quanti quindi sicuramente tra i sogni nel cassetto c'è anche quello senza dubbi da qua i prossimi 12 mesi per chiudere questa chiacchierata cosa ci aspetta per il tuo progetto NFT e non solo? beh dunque ci saranno nuovi drop ci saranno nuovi drop del progetto NFT intanto c'è c'è questo che è il primo che abbiamo legato ai due remaster che è un drop al quale sono molto molto affezionato uno perché è il primo e quindi la prima volta non si scorda mai in generale e ci saranno altri episodi di queste collezioni NFT adesso il prossimo secondo me sarà fra un paio di mesetti circa ed è bello appunto come dicevamo prima che sono tutti quanti uno allacciato all'altro non c'è che ti fai tutto il percorso che man mano che prendi gli NFT hai sempre più esclusive chiamiamole così quindi queste sono un pochino le novità sugli NFT il percorso che continua fondamentalmente ecco e tu sei su Discord manetti su Discord sto iniziando guarda in realtà quello degli NFT è lo spunto per diventare un pochino più smanettone perché io a livello di tecnologia sono rimasto ancora quando il modem non va stacca la corrente aspetta 10 secondi e riattacca la corrente quello è un po' il mio livello di expertismo che ancora funziona devo dire nel 2000 che tra l'altro funziona una cifra ancora oggi cioè è tipo la soluzione per il 90% di problemi comunque sì 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 chatto su Discord quando ci sono questi appuntamenti qua con la community ed è anche figo perché ripeto è bello perché è una conversazione diretta è un po' come quando si facevano i firmacopie qualche anno fa prima della pandemia che comunque ti prendevi quei 5 minuti per andare a firmare il disco a chi l'aveva preso e avevi quel era mezza parola cioè non è che stavi lì le ore però era quella mezza parola che cioè lasciava qualcosa sì sì nasceva qualcosa nel confronto e detto alla fine io personalmente lo faccio per quello lo faccio perché amo creare però lo faccio per i live lo faccio per l'incontro con i fan lo faccio per dare qualcosa a chi sta dall'altra parte ecco quello mi fa sentire realizzato non sono i soldi le certificazioni sai quelle alla fine è carta se dai un impatto se lasci qualcosa alle persone come quando tu scrivi libri come quando insegna alle persone come muoversi cioè so che puoi capirmi quando hai un impatto sulle persone che vivono nel mondo quello è qualcosa ecco quello vuol dire tanto super oh in bocca al lupo per tutto allora ci vediamo grazie online e spero anche insomma di persona se passi da una break se ne vuoi un bambù aggiuntivo te lo tengo da parte almeno abbiamo tutto il pacchetto completo caro grazie ancora assolutamente ti ringrazio ancora grazie